Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, un incontro attraverso il quale la ZES procede ascoltando le esigenze dal basso, confrontandosi con le ipotesi, le idee in campo che possono giovare al territorio, ascoltando le associazioni, le categorie. La zona economica speciale può rappresentare a Taranto un modello di sviluppo alternativo a quello che abbiamo conosciuto sino ad ora e da cui a fatica proviamo ad uscirne. Abbiamo chiesto in queste ore al Premier Conte nuovi modelli di esonero totale delle tasse, l'esenzione totale dell'IRES per dieci anni, oltre a misure più stringenti per accelerare i tempi per la riscossione dei crediti da parte delle imprese. Pensiamo che questi due valori possano rappresentare, se recepiti dal Governo centrale, elementi importanti per dare l'opportunità a nuove imprese e quindi per garantire alla zona economica speciale Ionica, che ha sede in Taranto, presso l'autorità portuale, imprese anche di caratura internazionale che possono venire a investire qui a Taranto. Oggi abbiamo ascoltato il terzo settore, dopo aver ascoltato nelle settimane e nei mesi scorsi gli enti locali, dopo aver ascoltato le associazioni di categoria e gli enti datoriali, abbiamo voluto ascoltare il terzo settore, una riunione abbastanza partecipata, ieri l'abbiamo fatta a Bari per la Zessa Adriatica, perché è fermo convincimento del nostro assessorato quello di ascoltare il parere di chi è presente sul territorio, nelle varie sfaccettature con impegni vari nel campo del volontariato, per costruire un piano del marketing all'altezza della situazione, per dare ancora maggiore competitività alla nostra zona economica speciale. Assessore, lei ha evidenziato il fatto che ora l'impalcatura, la parte strutturale, l'attività istituzionale della ZES è definita, ora si tratta di far sì che siano i privati a diventare protagonisti, i privati che tra virgolette osino. Certo, dal 25 settembre la zona economica speciale è formalmente attiva, la nostra azione politica è mirata, oltre alla possibilità che già è concessa loro, delle imprese locali di poter intervenire e poter investire nelle aree perimetrate ZES, anche ad imprese che vengono da fuori e quindi creare un settore virtuoso in cui grandi imprese possono localizzarsi nella nostra realtà e poter creare una sinergia con le imprese locali già esistenti, oppure la possibilità a piccole e medie imprese locali, attraverso gli incentivi della ZES, di poter diventare se stesso delle realtà grandi. Tutto questo nell'ottica di superare il modello di sviluppo che noi abbiamo conosciuto e che proprio in queste settimane, in questi giorni, in queste ore sta mettendo in crisi l'intera comunità ionica.